Per i mafiosi, gli immigrati prendono molto più della droga, come dimostrano l'inchiesta a Mafia Capitale o quella sul Cara di Mineo o quella sul CIE di Trapani. È arrivato il momento di dire basta al business dell'immigrazione. L'Europa ha firmato un patto vergognoso quanto illegale con la Turchia del sultano Erdogan. Un patto da 6 miliardi di euro che ha spostato i flussi migratori dalla lotta balcanica a quella mediterranea. Grazie a Renzi e alla Merkel gli sbarchi sono aumentati. Stracciamo le concessioni a ricatti di Erdogan e diciamo no alla vendita di armi ai paesi che finanziano terrorismo e guerre. Sull'immigrazione il Movimento 5 Stelle ha proposte chiare e semplici e vogliamo condividerle con voi. Incontriamoci il 24 e 25 settembre a Palermo per la terza edizione di Italia 5 Stelle e lottiamo insieme per un'Italia migliore. Se potete aiutateci con una piccola donazione. Non abbiamo mai preso il finanziamento pubblico ai partiti e non lo faremo mai.